Tormento i malanni di stagione che stanno mettendo a letto davvero tanti italiani. Noi vogliamo contrastarli. In che modo? Beh, sicuramente l'alimentazione e i rimedi naturali ci possono dare una mano. A tante domande risponderà il dottor Luca Avoledo. Benvenuto. Grazie. Specialista in scienza dell'alimentazione, nonché in naturopatia. Allora, io ho detto che l'alimentazione ci può aiutare. L'alimentazione è fondamentale, no? Anche per contrastare tante malattie, che purtroppo un terzo delle malattie croniche può essere prevenuto a tavola. Ma in che modo l'alimentazione invece contrasta, come dire, i malanni che stanno girando in questo momento? L'alimentazione ha un ruolo cruciale nel funzionamento del sistema immunitario, ovvero quella parte del nostro organismo deputata proprio a difenderci dalle malattie invernali, dall'influenza, dalle sindrome parainfluenzali e da tutte le altre malattie, a dire il vero. Una dieta correttamente composta, equilibrata, consente al sistema immunitario di agire in piena forza, efficienza e vitalità e quindi di proteggerci al meglio dalle malattie. Al contrario, una dieta male impostata, poco equilibrata, troppo ricca o troppo povera, eccessivamente imperniata sui cibi industriali come, ahimè, è l'alimentazione di tanti italiani, al contrario non consente al nostro sistema immunitario di lavorare al meglio e di difenderci al meglio. Noi quest'oggi vi daremo tanti consigli, davvero anche molto pratici, di come impostare anche la nostra alimentazione, che cosa mettere anche nel carrello della nostra spesa, questo magari è l'orario, ho aspettato la fine del mio medico e poi magari andato a fare ovviamente la spesa. Allora quali sono gli alimenti che noi dovremmo consumare di più e conoscerli anche di più? Innanzitutto va detto che non dobbiamo pensarci solo adesso, quella con la dieta sana è una promessa d'amore che va rinnovata ogni giorno, vita natural durante e soprattutto va guardata al di là della ricerca dei singoli alimenti, l'alimentazione nel quadro generale e nel suo complesso, l'alimentazione deve essere globalmente sana, non devono mancare per esempio in questo periodo e non solo in questo periodo, categorie alimentari particolarmente importanti come le proteine nobili, quelle che troviamo nel pesce, nelle carni bianche, nelle carni rosse magre, perché? Perché il sistema immunitario funziona a proteine, gli anticorpi stessi sono proteine, in più la carne e il pesce contengono ferro, zinco, minerali assolutamente fondamentali per il funzionamento del sistema immunitario, la frutta e la verdura ricchi di vitamine e di minerali, la C è la vitamina per antonomasia che ci aiuta a difenderci al meglio dalle malattie invernali, e in più anche i cereali integrali che a differenza di quelli bianchi e raffinati, il pane, la pasta, il riso bianco e brillato, contengono la crusca e il germe, quindi sono ricche di vitamine del gruppo B e di vitamina E che servono anche in convalescenza per tirarci su, e infine l'acqua, l'acqua che ci dimentichiamo è il nostro nutriente fondamentale, le stesse mucose delle vie aeree hanno bisogno di essere ben idratate per fungere da barriera nei confronti dei virus e dei batteri, e io vedo pazienti soprattutto ultra settantenni e ultraottantenni che bevono troppo poco, la disidratazione è pericolosa e non certo solo per quando parliamo di influenza. È vero, quanti sono otto bicchieri? Tendenzialmente i classici due litri, bicchiere più e bicchiere meno, almeno mettete una bottiglia a un litro e mezzo alla mattina, consiglio, a sera deve essere finita. Deve essere finita, questo è il consiglio, mi raccomando, comprate, riempitela con l'acqua e bevetela durante il giorno, però nella lista c'è una cosa che lei ci ha proposto, che io non ero proprio a conoscenza, questo fungo shiitake, che cos'è? E dove si trova? È in buona compagnia, perché dalle nostre parti non è molto conosciuto, eppure pensate che questo fungo, che si chiama addirittura shiitake, nome giapponese, è il secondo fungo più consumato nel mondo, dopo lo champignon, però è consumato soprattutto sui mercati orientali, Giappone, Cina, eccetera, eccetera. Ebbene, cosa è successo? Che questo fungo si è visto che al di là della medicina tradizionale cinese millenaria, la scienza moderna ha scoperto che contiene particolari composti che si chiamano betaglucani, che sono immunostimolanti, quindi la medicina cina... Come l'orzo, il betaglucano... Sì, un po' diversi, però è corretto, come i betaglucani dell'orzo. Quindi questo fungo viene aggiunto nella medicina tradizionale cinese, ma possiamo farlo anche noi, lo troviamo soprattutto dalle nostre parti nei negozi di alimenti biologici secco, viene aggiunto, alle zuppe, al primo, come contorno e, se vogliamo, anche in farmacia, anche in Italia, in vendita sotto forma di integratore alimentare, molto più concentrato, per un'azione un po' più decisa rispetto all'alimento. Decisa, proprio un antiossidante, insomma... Anche antiossidante, tante qualità. Ha tante... Allora, io qua davanti a me ho una bella spremuta d'aranza, ovviamente in questo periodo le arance la fanno un po' da padrona. Per fare l'incetta di vitamina C, una spremuta d'aranza ci può bastare? Eh, no, ci può aiutare, ma non ci può bastare. Ha tanti benefici, appunto, è buona, è sana. Due vantaggi fondamentali, innanzitutto idrata, abbiamo detto che idratare le mucose è importante, e in più apporta appunto la vitamina C, che anche è l'uomo della strada, non c'è bisogno di essere... Tutti sappiamo che fa bene. Però in realtà non solo gli agrumi. Non solo gli agrumi, ci sono anche altri cibi che contengono buone quantità di vitamina C, ma cibi di questo periodo quindi ci fanno comodo. I kiwi, fra un po' arriveranno le fragole, l'ananas, la melagrana. Già sono arrivate, l'abbiamo viste, però magari non sono al pieno. Però sono un po' troppo anticipate. E persino alcune verdure, non ci pensiamo mai, contengono vitamina C, pomodoro, peperone, broccoli, però poco cotti e sono la vitamina C si degrada. E questo perché è termolabile. Sì, termolabile, benissimo. Dobbiamo... Beh, a forza di stare a contatto con voi, io dico, con voi, specialisti dell'alimentazione, anche per fortuna, anche i nostri amici che ci stanno seguendo da casa hanno più consapevolezza di ciò che devono assolutamente portare in tavola in questo periodo dell'anno, per cui in questo periodo magari facciamo incetta anche di crucifere, insomma, broccoli, capolfioni e questi magari ci possono aiutare. Però per contrastare i malanni stagionali, beh, sicuramente c'è un rimedio. Il vecchio rimedio della nonna, il famoso brodo di carne, ci può aiutare perché ci aiuta? Sì, è proprio il rimedio tradizionale della saggezza popolare che tanti bambini hanno subito, è stato somministrato di prepotenza. Il brodo di pollo, infatti. Il brodo di pollo ha tanti vantaggi e la scienza moderna ha capito perché, al di là del fatto che idrata le mucose, il biandetto, il calore rende la vita difficile ai germi. Pensate che il corpo, per rendere difficile la vita ai germi, provoca la febbre, quindi aumenta la temperatura. Bere del brodo caldo ha un'azione di questo tipo, ma soprattutto si è visto che la carne di pollo nell'acqua, quando prepariamo il brodo, quindi in particolare il brodo di pollo, rilascia la cisteina che è un amminoacido che nel corpo è il precursore di uno dei più importanti antiossidanti che formiamo, che si chiama glutatione, che è fondamentale per il funzionamento anche del sistema immunitario. Pensate che preparazioni farmaceutiche, anche molto noti in commercio, utilizzano un derivato proprio di questa cisteina, l'acetilcisteina, perché è un'azione fluidificante del muco e aiuta a minimizzare i sintomi dell'influenza. Il vecchio rimedio della nonna aveva ragione la nonna, ma non solo. Oltre al brodo ci sono le zuppe, le zuppe sono una coccola anche, oltre che molto buone per chi le ama, i bambini forse un po' meno, allora anche perché la zuppa noi dovremmo consumarla in questo periodo? Anche lei contrasta i malanni? Sì, assolutamente, oltre a dare un senso di conforto molto piacevole per chi è malato, quindi anche loro sono belle calde, idratano le nostre mucose e in più apportano le vitamine e i minerali della verdura, ma se siamo furbi aggiungiamo un ulteriore valore alle zuppe, perché scegliendo particolari ingredienti e in particolare penso a alcune spezie, lo zenzero, la curcuma, anche il curry, l'aglio, la cipolla, sono spezie ed erbe dall'azione antimicrobica e impartiscono una seppur blanda non insignificante azioni battericida anche alla nostra zuppa. Per cui anche le zuppe mangiamole, sta per ritornare il freddo, per cui fanno anche bene, speriamo che non tornino troppo i malanni stagionali, che stavano un po' scemando, ma in realtà sono tanti gli italiani che ancora sono riprese con questi sintomi. Allora, rispondiamo un po' a qualche domanda, dottor Avoledo, rispondiamo a Eleonora, ci scrive da Torino e ci chiede, mi hanno detto che per l'influenza intestinale dovrei assumere i probiotici, è sufficiente mangiare uno yogurt al mattino? No, non è sufficiente, il yogurt è un elemento super sano. Innanzitutto che cosa sono i probiotici? Ok, i probiotici sono specifici microrganismi che una volta assunti svolgono delle funzioni benefiche per l'organismo umano. C'è una differenza con i fermenti lattici? Eh beh, sì, è proprio questa, perché lo yogurt, che pure è un alimento sano, se è naturale, non con l'aggiunta di frutta, che spesso è più zucchero che frutta, la frutta ce l'aggiungiamo noi nello yogurt bianco, lo yogurt contiene, quello classico, solo due batteri, che sono batteri utili, ma sono fermenti lattici, perché non arrivano in quantità sufficiente nell'intestino vivi e vitali per colonizzare. E questa è la differenza con i probiotici. I probiotici arrivano, colonizzano, producono metaboliti utili, quindi lo yogurt si può mangiare, ma se vogliamo un'azione più decisa a livello del sistema immunitario e nell'intestino risiede la gran parte del sistema immunitario umano, dobbiamo ricorrere ai probiotici, agli integratori di probiotici che si vendono in farmacia. Per cui sono integratori, perché c'è una differenza tra probiotici e fermenti lattici, mi raccomando, se avete bisogno di un'azione diretta sull'intestino dovete prendere i probiotici, però a questo punto gli integratori, parliamo di integratori, come facciamo a scegliere un integratore che faccia per noi? Purtroppo non è così banale come si crede, perché l'integrazione probiotica è un po' come la dieta, cioè è un abito, ma non l'abito dei grandi magazzini, è l'abito che ci fa il sarto su misura per noi e diverso da quello degli altri, quindi le mie esigenze di integrazione probiotica sono diverse dalle sue, Monica, che sono diverse da quelle di ciascuno dei nostri tre spettatori che ci stanno guardando in questo momento, perché a seconda della nostra età, giovani adulti, anziani, bambini, adolescenti, donne, uomini, donne in gravidanza, certe malattie di cui soffriamo, la dieta che seguiamo, i farmaci che prendiamo, abbiamo microbiota intestinale diverso e abbiamo esigenze di probiotici diverse, quindi il consiglio è un buon nutrizionista che ci riconsiglie o alla peggio anche il farmacista di fiducia. E questo è importante, per cui non fate il fai da te, come spesso avviene, soprattutto quando andiamo in farmacie e compriamo il primo probiotico o peggio, i fermenti lattici che sono in offerta, mai farlo, affidiamoci sempre a un specialista della nutrizione. Grazie di cuore al dottor Luca Voledo, grazie per aver citato questi consigli. Dobbiamo dare un rimedio a casa per combattere, perché anche la natura ci viene incontro per contrastare ovviamente i malanni stagionali e dobbiamo farlo con quali piante o oli essenziali? Con quali? Possiamo ricorrere a un suffumigio, che è una preparazione tradizionale. Anche questo è il rimedio della nonna. Sì, e se scegliamo alcuni oli essenziali, dalle proprietà balsamiche, spettoranti, antinfettive, potenziamo l'azione mucolitica e antinfettiva che ha già il vapore e l'acqua calda. In particolare tra i miei preferiti ci sono gli oli essenziali di eucalipto, di timo e di pino silvestre, che sono perfetti proprio per le situazioni di sinusiti, riniti, bronchiti, per il naso intasato, hanno proprio queste proprietà benefiche. Allora noi qua ce li abbiamo, abbiamo un po' di oli essenziali, allora eucalipto, timo e pino silvestre e sono quante gocce? Io lo preparo. Allora se vogliamo usarli tutti e tre, che sarebbe la cosa migliore per usarli in sinergia. Inizio con il timo. Sì, due gocce per litro, litro d'acqua e mezzo, un litro, un litro e mezzo d'acqua. Ok, due gocce. Due gocce per ciascuno. Perché così pochi? Perché gli oli essenziali fanno... Se ne può mettere anche qualcuna di più, però gli oli essenziali tra i rimedi naturali sono quelli da maneggiare con un pochino più di attenzione. Quindi possiamo mettere anche qualche goccia in più, ma non troppe. E questo contrasta cosa? Ci fa sciogliere un po' il muco? Sì, soprattutto per il raffreddore. Sono balsamiche, quindi il raffreddore, il naso chiuso, bronchiti, espettoranti, fluidificanti del muco e anche antisettiche, antimicrobiche, anche per semplice inalazione. Quindi ci mettiamo con un asciugamano vicino, inspiriamo i vapori per una decina di minuti, una, due, tre volte al giorno nei momenti più critici e abbiamo un deciso beneficio. L'acqua deve essere bollente ovviamente. L'acqua deve essere bollente e avviciniamoci con prudenza ovviamente, perché se no ci scottiamo. E questo è importante, per cui i suffumigi è un altro rimedio della nonna, mai passato di moda. Però allora questa influenza, dottora Voledo, l'hanno chiamata long cold, cioè dura tanto a lungo. Molti di noi che hanno avuto l'influenza sono stati giorni, direi settimane, con questa spossatezza, stanchezza che non passa. E allora in che modo l'alimentazione oppure gli stessi rimedi naturali ci possono aiutare per contrastare questa spossatezza che ci dà davvero fastidio? Sì, le soluzioni sono quelle a cui abbiamo già accennato, che valgono anche nella fase di convalescenza, anche nella fase critica e quindi le ricapitoliamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori, perché valgono in ogni fase, anche dopo la fase più critica della malattia. Assicuriamoci che la nostra dieta sia realmente completa e corretta. Gli italiani, la maggior parte delle persone che vedo, credono di avere tutta una dieta completa e corretta, non ce l'ha quasi nessuno. Abbiamo una dieta troppo ricca di cibi impoveriti, del capitale vitaminico e minerale, troppo industrializzati, processati, mancano cibi freschi, vivi e vitali, primo punto. Secondo, possiamo ricercare qualche rimedio particolare come l'uscita a che che ci aiuta e poi curate il microbiota intestinale, perché lì risiede la nostra salute. Per cui mi raccomando, fate una distinzione, abbiamo detto non basta soltanto mangiare lo yogurt, affidatevi a uno specialista e vi dirà esattamente qual è il probiotico che fa per voi. Grazie, grazie di cuore a Dottor Luca Voledo, grazie per aver citato questi ultimissimi consigli e grazie.